Uno spaccio di droga a macchia di leopardo tra Guido Monaco, Porta San Laurentino, Pescaiola, zone commerciali della stazione di via Vittorio Veneto, giardini pubblici del Porcinai e quelli del Parcogiotto e ovviamente a Campo di Marte, tutto dunque in pieno centro ad Arezzo. A Stroncarlo è stata l'operazione Buratto, così veniva chiamato uno degli spacciatori per la sua somiglianza con il re delle Indie. Un'integrazione perfetta, fin troppo, di questi criminali con le abitudini e le tradizioni dunque della terra retina quasi a sbeffeggiarla. Le indagini della squadra mobile di Arezzo partono nell'ottobre 2013 seguendo le tracce di uno spacciatore tunisino. Dopo due anni, grazie ad un minuzioso incrocio di accertamenti ambientali, intercettazioni telefoniche e movimenti, la squadra mobile riesce a dimostrare che c'è una fitta rete di spacciatori che, smerciando piccole dosi alla volta di droga, mantengono il controllo delle varie piazze, fidelizzando i tossici aretini. Sono tutti tunisini e albanesi. L'indagine è riuscita a risalire non solo agli spacciatori che fornivano la piazza di spaccia retina che si spostava dal centro alla periferia, ma anche a ricostruire quelli che erano i canali con i quali gli stessi spacciatori si approvvigionavano di stupefacente. Sia eroina che arrivava giù da un gruppo di tunisini stanziali in provincia di Caserta, sia di cocaina che invece proveniva da Arezzo, da un gruppo di albanesi che erano presenti qui sul nostro territorio. C'era un sodalizio costante e presente. Sì, la magistratura non ha ritenuto di dover avvisare l'associazione per delinquere e quindi contestare il 74, ma è stato contestato un concorso in spaccio. Il bilancio nei numeri alla fine sarà di nove ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite fin dalla prima mattina, tre misure di obbligo di dimora, tre di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e due di vieti di permanere nel comune di Arezzo. Un'attività che veramente ci ha visto impegnate per mesi, per circa 10-12 mesi, per raccogliere tutti quegli elementi e per dimostrare come uno spaccio isolato sia invece il frutto di un momento di spaccio continuativo con dei canali di approvvigionamento che siamo riusciti anche ad individuare, tra te che le custodie eseguite sono proprio a carico di coloro che rifornivano la piazza. Quindi veramente soddisfazione relativa perché in questi casi credo che c'è poco da essere soddisfatti vedere le nostre città assediate da spacciatori e consumatori, però ovviamente noi in questo caso dobbiamo anche pensare al contrasto, fermo restando che la prevenzione dovrebbe essere elevata a livelli superiori perché, ripeto, per noi il problema droga è tuttora uno dei problemi principali di questa realtà cittadina.